Faccia a faccia oggi tra sindacati e rappresentanti della FRO, storica fabbrica di Ardenno che realizza prodotti per la saldatura. La riunione è svolta assieme alla sede sondriese di Confindustria Recco e Sondrio. Arriva una settimana di distanza dall'annuncio dell'azienda alla volontà di chiudere entro l'estate lo stabilimento valtrinese che occupa 27 lavoratori. Dopo essere stata per decenni nelle mani dei francesi, dall'agosto scorso la FRO rientra nel gruppo americano Lincoln Electric. Un incontro interlocutorio, quello di oggi, dove sono stati analizzati vari aspetti. Per i dipendenti prossimi alla pensione si stanno vagliando le vie percorribili. Per i colleghi più giovani si ipotizzano percorsi di formazione e buone uscite. Un nuovo incontro è in agenda la settimana prossima, ma al momento nessun dietrofronta sulla decisione di chiudere lo stabilimento nell'estate 2018.